Ok, salve a tutti ragazzi, in questo nuovo video che spero sia di Pothmonity Collection perché questo video lo voglio fare per partecipare a un corso dove potresti fare un parte lui aveva detto o tre bustine, o un tin, oppure un box o anche più di tre bustine, io gli porto tre bustine quindi bustiamoli tutti e tre, sono a random di nuovo bustiamo quello di HHS Battagli Triomfali, Palkia aspettate HHS senza paura, riguardo richiamo delle leggende Deoxys tre pacchetti pronti per essere aperti iniziamo subito da quello di richiamo delle leggende che è la mia più bustina di questo set spero di non romperla perché mi servirebbe vai, non l'ho rotta vai, non l'ho rotta vai ragazzi, siamo a due minuti, non ho fatto un bel niente ah, finalmente e l'ho salvata pure pezzo del mio sfondo allora, poi uno, due, tre uno, due un do totodile pineco cliffery mewin una supporter che è copiona fluffy e energia oscurità la reverse teddy ursa reverse e la rara foretres holo perfetto una holo dai iniziamo bene no, voglio fare una cosa hs è l'ultima perché corre quaza che è una figata quindi cerchiamo di salvare hs batte i tionfali che la scorsa apertura a random non l'ho salvata ma porca non l'ho salvata nemmeno in questo qui queste bustine sono fatti di ricotta come quella di destini futuri ebbene sì no, che sto facendo due, tre, uno, due raga, sono un po' nimbriocato perché sono appena andata a prenderle si scolupi volbit psyduck leaky tang ponita leaky leaky lol lidorina e pg8 la reverse uh ghastly reverse e la rara eh un altro drafionolo che palle quindi questa qui la scambio perché è drafionolo e drafionolo già ce l'ho queste sono le carterane mettiamole a terra e camera cerchiamo di salvare il pacchetto più figo dai oh si l'ho salvato ehm comunque ragazzi nella prossima apertura che mi sa che sarà nel posto dove partirò ehm farò delle aperture di box almeno credo 1 2 3 1 2 3 almeno non sto sbagliando il trick 1 1 1 che sto facendo 1 1 2 pikachu stanky gliflo slugma mac supporter fioraia supporter addestramento del saggio la reverse ambre è un prime bellissimo e dro plus raro bellissimo dra ambrio prime la mia prima prime oh ragazzi le prime vi dico che si trovano molto facilmente ma molto quindi questi pacchetti sono andati alla grande bellissimo Umbreon Prime allora riepiloghiamo le carte che abbiamo trovato Umbreon Prime Tropius Raro Gastly Reverse un altro Drafionologhi Scambio Teddy Ursa e Forestres Olo bellissimo Umbreon comunque stavo dicendo in queste bustine dove escono le Prime sono molto facili da trovare le Prime come ad esempio al primo botto la mia seconda bustina già trovo Umbreon Prime e niente quindi spero che questo video sia di Pokemon IT Collection e niente quindi per questo video è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video ciao